Un altro brano che mi piace tantissimo da suonare per tutta una serie di regioni è Malafemmine. Malafemmine è uno dei pezzi che ogni sera me lo chiederanno almeno 12-13 volte. Io lo faccio anche questo rubando un po' a tre tecniche che bene o male ascolto insomma. Quindi il primo accordo. Se vi era mai avete capito che io faccio sempre sta menata. Si può fare in andata o in ritorno. Anche qua volete. Il ternero di Malafemmine a me piace farlo stile di Gypsy King quindi uscito dentro un pochino e vado. Questo tipo di ritmica. E... Adesso lasciando perdere gli accordi quello che mi interessa quando faccio questi bradi qua è dargli proprio lo stile che ho voglia di dargli in quel momento. Quindi in questo caso Gypsy King quindi... Questo è il tipo di ritmo che insomma... Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.